Buonasera Rian, oggi siamo qui a Cappelli, a tutti, in compagnia di un artista musicale di Paira Muscala, Giovanni Giovanni. Buonasera a tutti. Allora Giovanni, prima di parlare della tua intensa candela musicale, parliamo prima delle tue informazioni principali, quando tu sei nato, la frequenzazione della scuola e come ho studiato le scienze, passiamo alla nascita della tua passione per il mondo della musica. Allora, io diciamo innanzitutto che sono un po' extracomunitano in questa zona perché come farlo con le mie origini, io sono nato a Cassino, non sono della zona. Arrivo nei pressi di Riardo intorno al 2012 per volere della mia ragazza, adesso attuale moglie, di Riardo e decidemmo di stabilirci a Paira, ecco perché poi tutto quello che ne consegue dopo avviene nell'alto da settembre. Come ho detto sono lato a Cassino, 41 anni fa. Sei giovane? Giovane, diciamo ancora giovane, perché fino a 50 anni si dice che c'è ancora la possibilità di essere giovane. Le mie prime esperienze musicali sono state pessime perché nelle medie andavo malissimo la musica, tanto è vero che io cercavo di ricopiare all'orecchio quello che facevano gli altri miei compagni, ma io non lo leggevo, non sapevo proprio che cos'erano le modificate. Per tipo altre materie, come inglese? L'inglese mi piacera di più, la matematica la odiavo, l'italiano mi piaceva, diciamo che era un po' più usato, un po' più lungo da me che l'inglese e l'italiano, quindi adesso la storia, la geografia, le scienze mi interessavano. Ecco, è un percorso scolastico un po' così travagliato in un po' tutti quanti, adesso non siamo tutti i geni. Che altro mi hai chiesto? E poi appunto passiamo alla fioritura della tua grande passione musicale. Allora, la radice di tutto ciò ebbe inizio esattamente quando mio padre mi vedeva proprio alle medie, schiatarmi, perché noi avevamo la clavietta musicale, che era una tastierina che andava col fiato a bocca, veniva soffiata e riproduceva il suono. Io a casa, al di fuori della mia, delle mie, diciamo, lezioni, dei compiti che dovevo fare per portare il giorno inizio dopo, mi diventavo a suonarci e vedeva che riproducevo a orecchio tutti i brani, che ne so, anni sessanta, che ne so, c'erano una stanza, gli altri... Io la caputo. Adesso non mi ricordo tutti i brani, però mi ricordo che lui mi vedeva senza che leggessi nessuna nota musicale, mi mettevo lì e suonavo, suonavo questa clavietta. Da che poi si convince a comprare una prima tastiera elettronica, ormai era una tastiera molto piccola, cioè professionalissima, molto ai primi livelli, e vedeva che questa passione musicale si sviluppava piano piano, perché io poi là non avevo più l'handicap di dover soffiarci dentro, quindi io stavo lì ore e ore a suonare, a suonare, c'erano i ritmi, la clavietta non me lo poteva fare, lì c'erano tutti i suoni della disco, del quattro quarti, del sedici quarti, quindi io là mi... E' partito tutto. E' partito tutto, perché poi io inizio nei primi anni del 94, sì, 94-95, a Tarnisi Piofana mi iscrisse a un corso di musica japan, lì il primo saggio, le prime esperienze con le novel, davanti a uno spartito, e leggere le prime novel musicali, però sempre a livello molto più infattile, ricordiamo che c'erano sempre tre di suoi apportizzati, e quindi queste le prime cose, il mio primo saggio davanti a tantissima gente, molto, molto emozionato, e mi ricordo che mi fecero fare, You Are My Sunshine, un gruppo, non mi ricordo, comunque era il gruppo reggae in poco negli anni 90, e questa canzone me la imparai tutti i giorni, tutti i giorni per cercare di fare quanto più precisa possibile. E tal lì, io posso nominare all'infinito, poi non voglio che l'intervista abbia 60 anni, tal lì poi il secondo saggio, sempre in quella scuola di musica, ho interrotto quella scuola, e più avanti quegli anni ho avuto la possibilità di iscrivermi a una carina privata, quindi sorfeggio, pianoforte, canto moderno, e tutto il resto stesso. Il mio primo gruppo musicale, unico, se così possiamo denominarlo, perché unico, unico nel senso che era mio, mio dove riuscivamo, oltre alle cover, a realizzare delle delegazioni solitamente. Quindi il nostro primo lavoro nel 2000, questo gruppo era partito con il tempo di andare a storia nelle locali, perché poi siamo diventati molto più affiatati, molto più bravi, c'era una confluenza pure nel ritmo e nel sound, decidemmo di mettere su la carta delle esperienze mie, dei testi e delle musiche realizzate da me. E lì ci puoi anche l'aiuto del mio pilavista, che poi adesso, se sono produttore del 2001, quindi dal 2, perché avuto tutte in assalabilmente, sono rimaste le ceneri di questo gruppo musicale, che poi è il prodotto di questo CD, che realizzavamo dopo i tuoi anni, dove c'erano 3 canzoni, poi ci sono posto dei brani che non sono stati più pubblicati, però li consegno ancora nel cassetto, il famoso cassetto, che può riaprirsi anche più in là nel corso del tempo. E ne rimane un ottimo ricordo delle esperienze intramuntate, che mi colpo ancora detto, per i tuoi spettacoli di adesso. Parliamo di due o tre esperienze in qualità di cantatore, dal Zingara Modre d'Acqua nel 2009 presso il piano Maggiore di Cassino, nel musical Il Fonte di Monte Cristo presso il piano Maggiore di Cassino nel 2012, e poi nel musical Dracula Ove da Rotta nel piano Judeano, vedremo che è fantastico. Allora, tre storie differenti l'uno dall'altro. Nel 2005, io noto che trovavo la mia vera identità anche in un'altra disciplina che è il musical. Il musical è completo perché riguarda non solo il canto, che tutti sentiamo il cantante quando cantano qualcosa, però nel musical si esprime anche a livello diattale, quindi c'è il teatro, penso, e anche il ballo. Tutto insieme, mi incuriosiva e decisi di prendere lezioni da un direttore di foro di Roma che faceva degli stage proprio inerenti alla disciplina di musical. Da lì, mi sono puntato a capofitto in questa disciplina perché era veramente interessante, con un po' di sacrificio e di molta passione, perché nella musica ci muove passione, nel mercato e nelle tutte le arti ci eravamo solo con la passione, si decisi di farla crescere. Questa crescita alla fine mi ha dato la voglia di volerla esprimere attraverso qualche opera. Questa compagnia che avevo a Cassino mi propose una parte all'interno di questa storia che è una zingara di Otre d'Anne, non è altro che l'Otre d'Anne de Paris, quella di Ricardo Coccianto, di Delizante. L'Otre d'Anne, venne riproposto il musical all'inizio del 1990 con il cast originale e noi, come compagnia teatrale, e direttante, decidemmo di metterla in atto presso il piano di Otre d'Anne nel 2009, se non si fa. E anche nel 2011. Nel 2011 c'è un'altra cosa. Nel 2011 sempre la stessa compagnia, però per far finisco questa cosa. Nel 2009 c'è stato molto sacrificio da realizzarla perché era molto difficile da mettere in scena, perché noi ci curammo le scenografie, avevamo l'onere e la responsabilità di vedere le parti come dovevano essere realizzate, e quindi abbiamo fatto veramente un lavoraccio incredibile perché eravamo solo noi otto, sette cantanti e uno che ci gestiva dentro la parte musicale. Dopo di questo però c'è stato il riparamento, finalmente, perché in questo teatro abbiamo fatto il fold out. 750 persone che ci sono venute a trovare, sono rimaste contente, hanno pagato il biglietto, molte volevano entrare, volevano pagare il biglietto e non sono riuscite a entrare perché non c'erano i posti. e per noi vedere tutta quella gente. E io che dovevo aprire, perché facevo la parte del green one di questo musical, aprire il primo atto con tutta quella gente davanti. Parliamo della tua partecipazione in qualità di cantattora, due anni dopo, sempre presso il teatro Lanzoni di Cassino, nel musical che tu hai venuto in vista. Beh, io in quegli anni, fortunatamente, assieme a quella che era la campania del 2009, ci siamo avvalsi anche di un'equip che ci ha saputo giostrare al meglio e qui parliamo già di livelli semiprofessionali perché avevamo un vocal coach, un maestro Davide, perché come abbiamo visto c'erano due anni con la spada, c'erano dei colpi di scena dovevano utilizzare un po' più dinamico, un po' più dinamico. Nel 2011, finalmente, abbiamo avuto la possibilità di avvalerci un'equip veramente formato da vocal coach, maestro Davide, ma sono avanti da vendere lo spettacolo del Conte di Montecristo, a livelli professionali. Abbiamo fatto due eventi, due solitari di serate, che hanno avuto veramente un senso in un anno e lì c'è stato il sold out all'interno del Teatro Manzoni, e la stessa compagnia con altri artisti aggiunti perché, diciamo, in quell'ospettacolo c'era il fatto che c'eravamo moltissimo attore e lì abbiamo avuto anche degli attori professionisti che curavano il protagonista della storia stessa. Nel Teatro Indiano ci siamo arrivati, allora io parto un po' prima perché in quegli anni io ero già qui nell'Alto Casertano e ho avuto la fortuna di conoscere la compagnia RH Plus, l'associazione RH Plus di Pietra Pairano che loro sono ragazzi anche di Pairano e praticamente mi hanno contattato perché sapevano che io facevo queste cose avevo già esperienza nel musical, mi proposero di realizzare il musical Drapula Opera Notte. io ero decisi di poter portare perché è sempre nata in me questa voglia di realizzare musical, di far parte di queste bellissime cose che sono molto interessanti che crescono anche a livello interiore, diciamo. E lì feci la parte di Renfield, che era la parte di Il Pazzo. Ah, che... Un libro di Pazzo che... Un libro di Pazzo che... E' come il Dream War di Movies Cristo. E come il Fernando di Montecristo. E quindi queste sono queste tre esperienze. Parliamo invece della loro partecipazione al tuorana Mezzogiorn in Farnovia su Fly to Water insieme a Valentina Caila. Non siamo soli, non siamo soli Parliamo di questa partecipazione Allora lì saltiamo nel 2009 un po' prima del pote di Montre-Rand de Paris che è una zia della Notre-Rand partiamo lì perché un bel giorno mi suono a telefono ed era Valentina Valentina Caira la saluto se ci deve all'intervista e mi dice Giovanni ti andrebbe di partecipare il Rai a un duetto io salto dal divano perché io, proprio io no perché mi farebbe piacere che tu entassi con me Grazie perché grazie perché un brano di Morandi e ho detto ma certo partiamo andiamo a farlo fucile lì fui contentissimo perché è stata la mia unica esperienza in Rai e lo ricordo ancora con molto molto affetto questa partecipazione che ho avuto a mezzogiorno in famiglia perché ho avuto molto la fortuna di vedere gli studi Rai i Tameran, Amadeus, i personaggi che mi ruotavano l'orchestra stessa che formano tantissimo l'esperienza formano tantissimo perché a livello di esperienza le ricordo ancora molto naturali parliamo di una delle tue canzoni deserti non stare qui con me e corri finchè non torna il sole allora deserti invece ritorniamo ancora più dietro nel 2009 e siamo gli auguri del prima del 2009 questa canzone è nata di getto all'interno di una sala propria mentre eravamo lì con un gruppo strunale e abbiamo tanto pensato che dovremmo realizzare qualcosa per il nostro gruppo io avevo fatto le gioco musicale era un gruppo rock italiano e quindi De Sergi è nata proprio sulle radici di questo gruppo entro in sala propria e ragazzi abbiamo una eccoli accordi maffiato ed è uscita proprio di getto come se non fosse come se fosse stata scritta passata a quanto tempo questa canzone subito esce fuori il 99% del brano De Sergi fu fuori il titolo del cd che compriva altri due brano riconoscere e racconti questo brano che è un brano molto autobiografico e comunque su una radice rock del rock italiano ed è la fortuna di essere presentata in vari contesti in vari contesti dove i grappetti e i laroni sono stati sempre in tempi facendoci sempre molto fortuna sia per la parte musicale sia per l'interazione del testo e dell'interazione formale in questi anni ho deciso dopo diverse richieste da parte dei miei fatti, diciamo così per coloro che mi rendono a salire nei locali che avremo la conoscenza lì durante le feste di bambini mi chiedono spesso ma perché non realizzi qualcosa che noi ci possiamo portare a casa e ci lo possiamo invitare a salire mi chiedono io mi sono un po' documentato di come farlo e ho detto a vero perché no facciamo questo cd però non sapevo cosa metterci questo cd perché comunque i miei menti erano erano là nel 2000 e dal 2000 a data già adesso io non ho realizzato più niente un po' perché scrivere ci vuole del tempo ci vuole veramente una parte di te che deve essere concentrata è come sedersi davanti a una tela nel pittore il pittore se non ha mai fatate se non ha mai cosa faccia e nel suo momento di riflessione non ci vuole nessun quadro se non ha mai un pennello così per un artista che scrive ha bisogno del suo spazio del suo momento a calma e di relazione allora ho detto perché non mettere delle cose mi sono preparato per un po' che fanno a livello legale e ho realizzato sto realizzando un po' in fase di riuscione forse quando sarà proprio un artista saremo anche già a tre quarti del lavoro ho pescato da ogni artista un brano diciamo una serie A con l'autorismo del cambio di albano di taglioli negra mano ultimo e fama nazionale dallo studio ho visto di nuovo realizzato ho preso un brano per la chiesa con la chiesa per la chiesa quindi spero che il suo spazio potrà contattarvi per poterne avere anche con una copia e chi ne so questo sarà l'inizio e un'altra compilation vedremo un po' come saranno i prodotti io mi auguro di vendermi tantissimi e questo è il mio punto considerando la tua intera carriera quali sono le sensazioni e se c'è qualche momento bella la verifica che arriva a lui allora il periodo venditi sicuramente in questi anni perché sto avendo un consenso grandissimo questo è il cambio grazie a voi che mi state seguendo che mi chiedete dove sono le staglie e al contrario le esperienze negative che purtroppo accadono ma fanno parte anche delle 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 esperienze da venire quando il consenso è negativo quando sei ricordato quando la gente non sa che sei cosa fai e non viene a sentirti allora lì veramente una parte dice però la la passione deve essere più forte in questi momenti pubblici e deve continuare per far si che la gente sia completamente incentivata per essere un po' che può rispettare tutti buon anno grazie 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 a te ciao 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 abbracciami con la mente il sole mi sembra spento accendi il tuo nome in cielo dimmi che ci sei quello che vorrei vivere in te il sole mi sembra spento Oh no 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 no, abbracciami con la mente, smarrito senza di te, dimmi chi sei.